Riprende il cammino del papato itinerante inaugurato da Paolo VI già durante il concilio con il viaggio in Terra Santa e con la visita alle Nazioni Unite segnata dal grido mai più la guerra, mai più la guerra, dopo che Papa Giovanni era già uscito dalle mure vaticane per andare allorito. Tanto che la gente, sorpresa dalla novità fra i tanti appellativi affettuosi che gli rivolgeva, coniò anche quello di Giovanni fuori le mure, con qualche evidente intenzione di metafora. Con Giovanni Paolo II i viaggi papali assumeranno frequenza e dimensioni planetarie e così spiega egli stesso nel 1979. Da quando tutta la Chiesa ha preso nuova coscienza di essere popolo di Dio, popolo che partecipa alla missione di Cristo, popolo che con questa missione attraversa la storia, popolo peregrinante, il Papa non poteva più restare prigioniero del Vaticano, doveva nuovamente diventare il Pietro peregrinante, come quel primo che da Gerusalemme attraverso Antiochia, era giunto a Roma per rendere testimonianza a Cristo e sigillarla col proprio sangue. Il primo appuntamento papale del 79, il primo viaggio per confermare i fratelli, era già fissato per i predecessori. Per la seconda assemblea dell'episcopato latinoamericano a Puebla, dopo la prima a Medellino. Nel Messico, di lontana tradizione anticlericale, l'arrivo del Papa è preceduto da scandali e risentimenti giornalistici. Formalmente l'ingresso di ministri del culto stranieri nell'esercizio delle loro funzioni è vietato e nemmeno i residenti potrebbero andare in giro con la veste talare. Si fa qualche eccezione per l'inedito ospite e per i 300 vescovi latinoamericani che lo aspettano. L'accoglienza delle autorità politiche è cortese e distaccata, ma tutto il Messico è in subbuglio per l'ardente accoglienza popolare. E quando il giovane Papa scende dall'aereo e come prima cosa si inginocchia e bacia la terra messicana, lo stringe una irrefrenabile fiesta di popolo. Che viva Mexico. Viva il Papa. Al santuario della Madonna di Guadalupe, luogo di grande devozione popolare per la Virgen Morenita. L'apparizione della Vergine in veste di signora India nel 1531 al contadino asteco Juan Diego. Indios, neticci, neri con le donne e i bambini si sono riuniti da tutto il Messico e da diversi paesi dell'America Latina per fare festa e pregare insieme con il Papa. Ascoltano la sua invocazione alla Virgen Morenita. Salva le nazioni e i popoli di tutto il continente. Salvali dalle guerre, dall'odio, dalla sovversione. Fa che governanti e sudditi imparino a vivere in pace. Facciano quanto esige la giustizia e il rispetto dei diritti di ogni uomo affinché si consolidi la pace. Ai Vescovi dell'America Latina riuniti a Puebla raccomanda di non consentire riletture del Vangelo contaminate da ideologie della stagione delle suggestioni marxiste nella teologia della liberazione, confermando invece l'appello di speranza della prima conferenza di Medellin. Con la sua opzione per l'uomo latinoamericano, visto che nella sua integrità, con il suo amore preferenziale e però non esclusivo per i poveri, col suo anelito verso una liberazione integrale degli uomini e dei popoli. A Oaxaca, dove si avverte grave l'emarginazione e la discriminazione degli indigeni, un indio lo saluta così. Tu hai detto che noi poveri dell'America Latina siamo la speranza della Chiesa. Guarda ora come vive questa speranza. Risponde con voce ferma. Il Papa sta con queste masse quasi sempre abbandonate a un livello di vita ignobile e spesso sfruttate duramente. Il Papa vuole essere la vostra voce, la voce di coloro che non possono parlare e che sono costretti al silenzio. Vuole essere coscienza delle coscienze, per farsi invito all'azione, per recuperare il tempo perduto, che è spesso tempo di sofferenze prolungate o di speranze non soddisfatte. Marzo 79. La prima enciclica, Redemptor Ominis. Il Redentore dell'uomo, Gesù Cristo, è il centro del cosmo e della storia. L'uomo è la via della Chiesa. La passione per gli uomini, per gli uomini concreti del nostro tempo, per la dignità e i diritti umani, traspare da ogni riga di questa prima lettera segnata anche dall'attesa ormai vicina dell'anno 2000. È difficile dire in questo momento che cosa quest'anno 2000 segnerà sul quadrante della storia umana. Per la Chiesa, per il popolo di Dio che si è esteso, sia pure in modo diseguale fino ai più lontani confini della Terra, quell'anno sarà l'anno di un grande giubileo. Siamo anche noi, in certo modo, nel tempo di un nuovo avvento che è tempo di attesa. Il terzo millennio, per il quale molti prevedono catastrofi, è visto piuttosto come occasione di un nuovo tempo di avvento umano e cristiano. Dal 2 al 10 giugno, tempo di Pentecoste, Karol Wojtyla ritorna per la prima volta da Papa nella Natia Polonia, dove la sua elezione è stata accolta dal tripudio popolare e anche da qualche pur trattenuta soddisfazione dalle autorità comuniste. Era stato del resto un leader comunista polacco, Vladislav Gomulka, a dichiarare nei primi anni 60. Dalle tribune del nostro partito risuona una lingua morta, mentre la gente aspetta parole vive. Sarà un altro polacco, diventato Papa, a pronunciare le parole vive che susciteranno la rinascita della Polonia, svuotando la lingua morta marxista. Del resto, ridotta a vuota retorica di un potere totalitario, tributario e succube della vicina superpotenza sovietica. Tutto questo si vede nelle immagini della Polonia che accoglie il Papa. A piazza della Vittoria, a Barsavia, l'immensa folla, più di un milione di persone, ha aspettato per ore l'arrivo di Giovanni Paolo II. E il Papa, fra ovazioni interminabili e ripetute, ricorda, per prima cosa, il suo predecessore Paolo VI, al quale, nel 1966, venne negato il visto d'ingresso per il millenario della cristianizzazione della Polonia. Una visita molto desiderata da Papa Montini. Paolo VI ha conservato nel suo cuore questo desiderio e con esso è sceso nella tomba. Ed ecco, sentiamo che questo desiderio così potente e così profondamente fondato, tanto da superare l'arco di un pontificato, si realizza oggi e in modo difficilmente prevedibile. si realizza, cioè, attraverso un Papa, a cui non si può negare il diritto di tornare nella Terra dove è nato. Infatti, la attraversa quasi tutta. Per ripetere che non si può escludere Cristo dalla storia dell'uomo in qualsiasi parte del globo e su qualsiasi longitudine o latitudine geografiche. L'esclusione di Cristo dalla storia dell'uomo è un atto contro l'uomo. Senza di lui è impossibile capire la storia della Polonia e soprattutto la storia degli uomini che sono passati o passano su questa terra. E la storia di ogni uomo si svolge in Gesù Cristo. In lui diventa la storia della salvezza. Da Varsavia a Cestocova. La Madonna Nera di Asnagura, a cui il Papa Mariano ripete totus tuus. Ad Auschwitz, Golgotha contemporaneo. Memoria dell'abisso dell'ideologia nazista. Chino sulla lapide che ricorda l'olocausto degli ebrei in ginocchio nella cella del sacrificio del francescano Massimiliano Colbe. La ministra dell'ediologia nazista. A Badovise dove è nato, nella parrocchia dove è stato battezzato, e il vecchio parroco che gli ha dato il battesimo si affaccia per primo per annunciare il suo arrivo alla piazza ricolma del paese e grida emozionato il latino Annunzio Bobis Gaudim Magnum A Bemus Papam Nella vicina Calvaria, dove Bambino il padre lo portava per mano a seguire la via Crucis sulla collina A Cracovia, dove è fiorita la sua vocazione maturata nel seminario clandestino dove è stato arcivescovo fino al conclave del 78 A Nova Uta, la nuova città operaia dove insieme ai lavoratori ricostruiva ostinatamente ogni volta la chiesa che veniva abbattuta dal regime sino che anche la casa di Dio è entrata quasi di forza nel piano regolatore Emozioni per tutti, da un passo all'altro Ma forse l'impatto più forte che travalica i confini della Polonia e si diffonde in un attimo nel mondo avviene a Gnesno, culla del millenario cristianesimo polacco e sede primaziale del cardinale Viscinski E' il 3 giugno 1979, festività di Pentecoste Le parole hanno una forza, un eco imprevedibile Qui si presenta come il primo Papa Slavo della storia Non vuole forse Cristo, non dispone forse lo Spirito Santo che questo Papa Polacco, Papa Slavo, proprio ora manifesti l'unità dell'Europa cristiana? Sappiamo che questa unità cristiana è composta da due grandi tradizioni dell'Occidente e dell'Oriente Le due grandi tradizioni, d'Occidente e d'Oriente sono invitate a ritrovare le comuni radici cristiane dell'Europa aprendo le porte agli esclusi, ai dimenticati, agli oppressi dall'ateismo dalla Lituania alla Cecoslovacchia Giovanni Paolo II prosegue infatti con forza Questo Papa viene oggi in questo luogo per rendere testimonianza a Cristo vivente nelle anime delle nazioni che da tempo lo hanno accolto come la via, la verità, la vita Viene per parlare davanti a tutta la Chiesa, all'Europa, al mondo di quelle nazioni e popolazioni spesso dimenticate Viene per gridare a gran voce Il collegamento radio-televisivo per la prima volta in diretta dalla Polonia diffonde quelle parole all'intera area centro-europea dominata dall'Unione Sovietica e sin dentro i confini dell'URSS nei paesi baltici, l'Ucraina, la Bielorussia Mi ascoltate voi Mi ascoltate voi Aggiunge il Papa con l'accento slavo A questo punto, d'improvviso, si interrompono le linee radio-televisive internazionali Ma le parole decisive sono ormai passate e non resteranno senza storiche conseguenze Giugno 1979, Polonia Tempo di Pentecoste La prima data di un grande cambiamento che farà cadere le mura di Gerico dell'Europa divisa Itinerario che Giovanni Paolo II conclude con l'antica invocazione Scendi Spirito Santo e rinnova la faccia della terra Di questa nostra terra La prima data di un sangri whatever Ci forta la scorsa La prima data di un sangripo iarni Sc микospora La prima data di un sangripo iarni E' un sangripo iarni La prima data che non racля deada le Those Jardi Grazie a tutti. Grazie a tutti.